Per chiedere l'esistenza, per chiedere l'esistenza politica, per chiedere il documento. Siamo qui oggi, un anno e sette mesi, senza fare niente, dormo e mangio solo. Senza residenza, senza documento, senza niente. Siamo in fatica adesso. C'è il governo per fare ai cittadini di Ordemilia, per aiutare, per avere caratteristica, per avere un posto dove si dorme dopo il 31 dicembre. Non si può andare fuori così, dormire con cose freddo. Siamo chiedendo l'aiuto solo. Non bisogna fare un altro niente. Non bisogna rubare, bisogna lavorare, trovare il documento, trovare l'esistenza, per fare tante cose. Senza documento non si può fare niente di sicuro di Ordemilia, non si può andare fuori se c'è il lavoro. È una cosa di vita molto difficile. Siamo chiedendo l'aiuto del governo solo.